Dottor Carrino, anche quest'anno Auro ha dedicato con Androspace un'ampia sessione all'andrologia, con un accento particolare sulle complicanze. Sì, in effetti abbiamo trattato le complicanze in chirurgia protesica, perché ormai la tecnica è assolutamente standardizzata, è importante però anche assumere la capacità gestionale delle complicanze. Abbiamo valutato le complicanze più rare in chirurgia protesica, quale le migrazioni del serbatoio protesico, la estrusione dei cilindri, che alla visione di chi è in pronto soccorso sono dei veri e propri dramma andrologici. Abbiamo, con relatori internazionali, presentate le più eleganti ed efficaci soluzioni terapeutiche in complicanze non frequenti. Si è parlato anche di priapismo, ma di che cosa si tratta esattamente? Dai riti orgiastisi di Dioniso e di Afrodite nacque sulle rive dell'Ellesponto un dio di nome Priapo, il quale ebbe un problema, si dedicò ad una fanciulla cara a Zeus e Zeus lo condannò ad uno stato di perenne erezione non risolvibile con qualsivoglia attività sessuale. Questo è il priapismo, un'erezione prolungata, dolorosa ed estremamente rischiosa per la futura sessualità del paziente. I relatori che si sono alternati hanno presentato la tecnica di strategia diagnostica nonché i primi approcci terapeutici, fino a situazioni estremamente complesse. Il priapismo, oltre alla chirurgia immediata, può indurre il paziente a ricevere una protesi peniena, quindi una chirurgia ad altissima complessità. Il tempo è critico perché se non si interviene nelle prime ore dopo l'insorgenza di questo stato di erezione prolungata, la funzione sessuale può essere irrimediabilmente compromessa.